Buona giornata. È proprio vero che ciò che cresce lentamente mette radici profonde. È vero. È vero perché tante cose noi vogliamo che crescano subito, vogliamo che nascano subito, vogliamo un'immediatezza, ma al tempo al tempo ci sono tante cose che forse quelle che perdurano di più, che si costruiscono nel tempo. Avere anche la pazienza di sapere aspettare. Se pensiamo a quelle straordinarie stallattiti e stallagmiti che ci sono nelle caverne, quanto tempo, quanto tempo, ma guarda, ma che anche che prodigio viene fuori. Ecco, allora perché non anche oggi avere questa attenzione e questa pazienza nell'aspettare che le cose, forse quelle che ci teniamo di più, crescono lentamente, ma sicuramente rimangono di più. E allora un'attenzione a questo, ma anche un'attenzione nel farle crescere, sicuramente nell'alimentarle e nel condividerle là dove si è, che forse è il miglior modo per tenere radici profonde. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata.